Chiamiamo nel ring l'arbitro, signor Rodolfo Meoni da Pistoia Incontro ugualevole per la categoria, 59 kg, 3 round da 3 minuti Chiamiamo nel ring, all'angolo blu, 61 incontri disputati, 54 vittorie per lui 6 sconfitte ed un pari, campione d'Italia e medagliato IFMA per il team Bassetti Old School da Crotone, Antonio de Thunder Albo Antonio de Thunder Albo Contro di lui, all'angolo rosso, 28 incontri disputati, 20 vittorie per lui 4 sconfitte e 4 pari, campione nazionale peruviano per il professional kickboxing team dal Peru, residente a Cenzano di Roma Marcello, la oscurità Ciccia Corazzo La oscurità Marcello, la oscurità Coração! É a primeira repressa, primeira round! E aí E aí Coração! Coração! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.